Buongiorno. Carissimi colleghi, naturalmente siete al corrente del motivo per il quale ci troviamo qui oggi in questa località segreta. No! Siamo oggi qui perché voi farete un test. Chi supera il test passa nella squadra speciale. Siete pronti? Sì! Chiama il primo, collega. Appuntato picunco, 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 picunco. Comodo? E sta occupata la fase. Riposo, collega, riposo. Allora, poiché trattasi di pura formalità faremo delle domande molto semplici. Cominciamo con la matematica. Sì, allora partiamo con l'addizione. Ci deve dire quanto fa due più due? Non suggerite. Due più due... Sette. Qua? No, ci dispiace ma ho sbagliato. Ho sbagliato. Mi piacere, silenzio. Ci rendiamo conto la prima volta che fate questo test. È l'emozione. Di spiare. Ma vi proponiamo. Allora, quanto fa due più due? Bravo. Due più due. Guardi noi, per favore. Cinque. Ha sbagliato. Non è idoneo, non è idoneo. Scusate, cioè, non è idoneo. E vabbè, che significa? Cioè, voglio dire, capite anche l'emozione del collega. È giusto. Diamo un'altra possibilità. Almeno un'altra possibilità. Siccome è Natale. Non è giusto. Anche per noi, c'è un'altra possibilità. Per piacere, andiamoci pronto qua. Ho bisogno di quell'aumento di stipendio. Va bene, ecco lì. Allora, stia bene attento, guardi. La domanda è semplicissima, è un'addizione. Quanto fa due più due? Shhh. Eh? Shhh. What? Eh, chiedo scusa, comunque diamogli un'altra possibilità. Dai. Un'altra possibilità. Un'emozione dell'emozione. Un'altra. Un'altra. Un'altra...